Ad una svolta le indagini a Castelvetrano sull'omicidio avvenuto la scorsa notte. I carabinieri avrebbero già individuato e fermato gli autori. La vittima è Vincenzo Adamo Favoroso, 33 anni, detto Tacatà, ucciso a colpi di pistola. Le indagini, come si diceva, sarebbero già state concluse, anche se al momento continua a non trapelare nulla ufficialmente. Da una prima ricostruzione pare che la sparatoria sia scaturita a seguito di una lite avvenuta durante una cena presso un'abitazione privata in via Mazzini, in pieno centro storico vicino al sistema delle piazze. È da lì che sarebbero partiti gli spari che hanno poi ucciso il 33enne. Vincenzo Adamo Favoroso sarebbe stato poi caricato sopra un'utilitaria e portato in periferia, e precisamente in una zona di campagna vicino all'area commerciale, verosimilmente per fare scomparire il corpo che è stato ritrovato in parte denudato. L'uomo, grande tifoso della Folgore di Castelvetrano, fondatore del gruppo storico Old Fans, era assai conosciuto in città. Sul luogo in cui è avvenuta la sparatoria e in quello in cui è stato poi rimenuto il cadavere, sono intervenuti i carabinieri e la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Grazie a tutti.